Un saluto da Alessandro Bertolini e bentornati a Bike Test, il programma dove si provano, anzi si maltratano le bici da corsa e le mountain bike. Oggi vi porto alla scoperta della T800 Crossfire, è una bicicletta da trekking molto adatta a percorrere sia strade bianche che asfaltate. Possiamo utilizzarla anche per tranquille e piacevoli passeggiate nella natura o in città. Viene molto apprezzata come bici per la qualità complessiva delle sue caratteristiche e per il prezzo a cui viene venduta, attorno ai 700 euro. Il telaio in alluminio, con forcella sul tour e comandi Shimano. Altro vantaggio è che rivolgendosi a un pubblico sia maschile che femminile, le misure sono molto varie e provano a tenere conto di tutti i modelli. Gruppo Shimano SLX, sella Royal Viper e il peso super di poco 14 kg. Ci troviamo nella bellissima Bellagio, località turistica del lago di Como e oggi, nonostante la pioggia, testiamo la City Bike Torpado T800. La T800 monta un telaio in alluminio, un gruppo Shimano SLX con dei freni a disco, una sella molto comoda per tutti i percorsi Royal, una forcella ammortizzata su un tour con il blocco e una coppia di ruote molto resistenti a tutti i percorsi. Adesso ci vestiamo molto bene e ho visto che Bellagio ha delle scalinate in centro storico molto curiose per testare la mia Torpado T800 e sicuramente sarà uno spasso. Andremo a divertirci, seguiteci perché oggi darò il meglio di me stesso. Ci affidiamo ai percorsi di Bellagio, nonostante il mal tempo ma ci stiamo divertendo. Percorriamo un tratto di strada asfaltata, poi ci affidiamo alla navigazione del nostro Garmin EJ810. Proviamo il cambio Shimano. veramente preciso, maneggevole che tutti possono usare, i freni sono silenziosi, una frenata molto precisa, l'ammortizzatore mi sembra veramente buono. buono, adesso abbiamo un tratto di salita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso cominceremo la fatica ma con questo cambio Shimano che sicuramente con tutte queste velocità di queste marce sarà all'altezza di soddisfarmi. Adesso arriveremo al parco, il sopravvallaggio e poi da lì ci metteremo nella gioia di discesa. Grazie a tutti. 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 Berger è una bicicletta maneggevole alla portata di tutti. Interessante nel suo rapporto qualità prezzo, è in grado di essere utilizzata in più situazioni, vantaggi che possono invulgere un pubblico di entrambi i sessi. Per oggi è tutto, appuntamento al prossimo Bike Test dove si maltrattano le bici Un saluto da Alessandro Bertolini